Benvenuti, parliamo di project management. Project management applicato ad una sfera accademica e più concretamente all'applicazione del project management in un lavoro di tesi di laurea. Bene, prima di andare a fare delle esercitazioni pratiche c'è bisogno di capire che cos'è il project management, che cos'è un project manager e che cos'è un progetto. Vi gestione di un progetto è un mestiere ragazzi. All'estero le aziende cercano project manager per gestire progetti, ok? In Italia la figura del project manager non si è ancora sviluppata come in altri paesi, per cui forse quello che dirò sarà nuovo e magari vi sembrerà un po' strano. I project manager non sono necessariamente ultra competenti in un specifico settore. Perché? Perché il loro compito principale è quello di gestire le risorse, quindi tecnici, esperti, gestire budget e gestire le tempistiche, ok? Oggi perché parliamo di project management per un lavoro di tesi, quindi per scopi accademici? Perché le conoscenze basilari del project management possono aiutare enormemente in un lavoro di tesi di laurea. In che termini? In termini di conoscenza del contesto, ci aiutano a capire meglio il contesto nel quale stiamo lavorando, ci aiutano a pianificare il lavoro in termini di tempo e in termini di attività. Ci aiutano a gestire meglio gli imprevisti. Gli imprevisti ci saranno sempre, sorgeranno sempre degli imprevisti, dei problemi, improvvisamente, e è importante saperli gestire. Il project management aiuta ad avere un ordine mentale. Avere ordine significa sicuramente incrementare l'efficienza. In generale aiuta ad essere padroni del progetto e questo è fondamentale. Per chi fosse più interessato nel project management, ci tengo a dirvi che in Italia esiste un istituto nazionale di project management, si chiama EasyPM, Istituto Italiano di Project Management, che è nato nel 2005 e presso questo istituto si possono fare gli esami di abilitazione, certificazione di project management. Esistono due esami, uno base e uno avanzato. Questi esami si possono preparare sia in scuole, accademie, ovviamente a pagamento, dove ci sono dei corsi, però si possono fare anche privatamente e in tal caso vi consiglio di acquistare questi libri. Sono dei libricini, ma dove appunto c'è tutto, sono dei libri proprio ufficiali dell'EasyPM. Si studiano e dopo si va a fare l'esame presso l'EasyPM. Questo può essere anche interessante perché comunque si tratta di una certificazione nazionale riconosciuta che è spesso richiesta per molti lavori. Io personalmente ho fatto questo esame, quindi ve lo consiglio. L'esame si fa in un giorno, quindi molto semplicemente, e le date di esame sono tutte pubblicate sul sito EasyPM. Quindi la referenza è www.easypm.org. Passiamo al progetto. Che cos'è un progetto? Questa definizione è presa per esempio dal libro EasyPM. Un progetto è un'impresa complessa, unica e di durata determinata, volta al raggiungimento di un obiettivo. Quindi complesso, unico, di durata determinata. Inoltre il progetto è caratterizzato da un altro triangolo formato da tre elementi, che è quello di costi, tempi e qualità, che sono dei vincoli interdipendenti che caratterizzano qualunque progetto. Li vedremo in dettaglio. Per ora cominciamo a vedere la complessità, l'unicità e la temporaneità. Complesso. Perché un progetto è complesso? Da dove deriva questa complessità? Può essere complesso perché ci sono numerose attività che sono tra loro collegate. Queste attività possono essere tecnicamente complesse o magari poco conosciute. Per esempio, se noi affrontiamo un lavoro di tesi può darsi che l'oggetto di studio è a noi totalmente sconosciuto. Il tema della tesi non lo conosciamo, quindi ovviamente questa può essere una complessità. La complessità può nascere anche dal fatto che dobbiamo lavorare con altre persone, che possono avere mentalità e opinioni differenti. Noi per un lavoro di tesi ci dovremo interfacciare con il nostro relatore, il correlatore, ma anche magari con dei colleghi. Magari facciamo una tesi congiuntamente ad altri studenti. Altri studenti che possono essere della nostra università, ma anche di altre università. Quindi, insomma, questo può essere fonte di complessità. Dovremmo rispettare dei vincoli, ok? Dei vincoli imposti, per esempio, dal professore che magari ci darà le linee guida e magari dovremmo far fronte anche a delle risorse limitate. Cioè, magari non potremmo fare tutte le analisi geologiche per dire che vogliamo, perché? Perché costano tanto e avremo quindi delle limitazioni relativi al budget. In un progetto professionale, poi, la complessità sta anche nel fatto che dovremo interfacciarci a tante altre persone, gli stakeholders. Per stakeholders si intendono tutte le persone, tutte le aziende, che fanno parte del progetto. Praticamente tutti quei personaggi che sono attorno al progetto, quindi finanziatori, collaboratori, aziende terze, ok? Sono tutte quelle entità che sono interessate allo svolgimento del progetto e al raggiungimento dei suoi obiettivi. Unicità. Eh beh, se ci pensate, ogni progetto è unico. Nel caso di una tesi, immaginiamo di affrontare, per esempio, la stessa tesi, la stessa tematica, sia alla trienale che alla specialistica. Magari cambierà il prof. Magari il tempo cambia, noi siamo più maturi, sono passati degli anni. Magari ci saranno nuove evoluzioni nel panorama scientifico. Insomma, ogni progetto non è mai uguale ad un altro, anche a parità di tematica, ok? Ogni progetto crea dei prodotti, dei servizi, dei risultati diversi da ogni altro, ok? Cosa cambia? Lo riassumiamo qui. In un progetto può cambiare il team, quindi le risorse, il contesto, i collaboratori, i clienti, ok? Nel caso di una tesi, i clienti. Fortunatamente, insomma, nella più parte dei casi, non ci sono, quindi non dovremmo preoccuparci di questo, ma in un contesto professionale, sempre. Temporaneità. Un progetto è tempo. Tempo determinato, cioè con una data di inizio ed una data di fine. Poi, la data di fine potrà cambiare per una serie di fattori, ci potranno essere dei ritardi, o magari delle attività correranno talmente veloci da ridurre il tempo del progetto. L'inizio del progetto è spesso subordinato a tempi tecnici necessari a concretizzare l'idea potenziale, a trovare le risorse, a pianificarlo, eccetera, eccetera. E la fine del progetto dipende sia da fattori interni che da fattori esterni. La cosa più importante è questo quarto punto, quello del criterio. Criterio e metodologia, io direi. Cioè, se non si opera con criterio, si finisce per dire Ah, non ho avuto tempo, ho avuto poco tempo. In realtà questo in un progetto non deve esistere. Perché? Perché colui che gestisce il progetto deve sapere sin dall'inizio che c'è una limitazione temporale. Quindi deve saper gestire questa limitazione temporale nella pianificazione iniziale. Quindi, ragazzi, l'approccio del project management fa sì che sia in pugno il tempo, che lo si sappia gestire. Abbiamo parlato di costi, tempi e qualità. Questi sono i tre vincoli di qualsiasi progetto che sono tra loro interdipendenti e strettamente correlati. Cioè, praticamente è impossibile, ragazzi, ottimizzare questi tre vincoli. Molto, molto difficili. Impossibili ottimizzarli allo stesso tempo. Cioè, il responsabile di un progetto deve trovare la soluzione migliore per rispettare i tre principali vincoli di progetto. Per farvi un esempio, perché è molto difficile ottimizzare tutti e tre. Vi propongo un esempio. Se stiamo facendo uno studio geologico, se dobbiamo fornire un dato o un'analisi in tempi brevissimi, in questo caso si rischia di avere una bassa qualità. Sta al project manager valutare se questa qualità minima può essere sufficiente per l'obiettivo. Molto spesso si commette l'errore, per esempio, di over quality. Cioè, praticamente, per un dato obiettivo, si fa un lavoro estremamente più di qualità rispetto a quello che era necessario. In certi casi non è necessario fare un lavoro di qualità enorme, ok? Perché? Perché staremo a lavorare per chissà quanti giorni con un costo enorme per un qualcosa che poteva essere fatto in un tempo molto ridotto a dei costi molto più bassi. Questo è un esempio per farvi capire che costi, qualità e tempi sono strettamente correlati e vanno ben gestiti. Vediamo ora in dettaglio che cosa si intende per project management. Dunque, il project management è l'applicazione di conoscenze, capacità professionali e personali, metodi, tecniche e strumenti all'attività di gestione di un progetto al fine di soddisfarne i requisiti. Quando un project management è considerato di successo? Quando si raggiungono gli obiettivi entro i tempi previsti, entro i costi preventivati, con il livello di prestazione e di tecnologia desiderati, quindi con la giusta qualità prefissata, utilizzando le risorse assegnate in maniera efficace ed efficiente, con l'accettazione e la piena soddisfazione dei clienti. Cioè, un project management sarà non di successo se i clienti non saranno soddisfatti. Perché il project management è così importante? Perché dà degli enormi benefici. In che termini? Permette di identificare i requisiti del progetto e delinearne gli obiettivi in maniera chiara e raggiungibile. Permette poi di identificare e responsabilizzare i diversi enti e le diverse persone che concorrono alla realizzazione del progetto. Cioè, mi permette di dire chi fa cosa esattamente. Mi permette anche di definire le risorse necessarie per conseguire un progetto e applicare il piano operativo. Cioè, chi fa cosa, come e quando. Elemento importantissimo permette di rilevare lo stato di avanzamento. Cioè, un project manager sarà in grado di quantificare lo stato di avanzamento. Sarà in grado di definire ad ogni step del progetto, in ogni momento del progetto, se il progetto è in ritardo, è in anticipo, e quali sono i motivi, per esempio, di un ritardo, e quali sono le azioni correttive possibili per ridurre questo ritardo. Il project management, inoltre, permette di garantire la comunicazione interna ed esterna. Quindi definirà le modalità di comunicazione e la frequenza. Vediamo ora quali sono le caratteristiche principali di un project manager. Cioè, cosa devi saper fare? Il project manager è il responsabile della corretta applicazione dei processi di gestione del progetto, nonché il responsabile ultimo del suo completamento. È anche responsabile della diffusione delle informazioni verso tutti gli stakeholder. Il project manager dirige, gestisce e orienta. Risponde agli sponsor e opera a suo mandato. A questo punto è bene differenziare il concetto di capo e di leader per capire la figura del project manager. Il capo fa fare le cose, il leader invece convince a fare le cose. Queste due immagini sono estremamente rappresentative. Perché? Perché un boss, un capo, solitamente rappresenta un peso per il trasporto del business. Vedete, il team è qui a tirare il carro del business, ma in realtà il boss con questo suo modo di fare che ordina non aiuta certo a fare andare avanti il carro del business. Mentre un leader è lì in prima linea con il team a motivare e ad aiutare in prima persona al trasporto del carro del business. Ok? Come potete immaginare il project manager non sarà un boss, un capo, ma sarà un leader. Ok? Si dice anche che mentre l'autorità è tipica del capo, l'autorevolezza è una dote del leader. quindi questo teniamolo bene a mente. Cosa deve saper fare un project manager? Deve avere delle forti competenze di comunicazione, cioè deve saper comunicare con i giusti modi, essere deciso ma non brusco, deve essere analitico, sintetico e preciso. Sia nella comunicazione verbale sia in quella scritta. Il project manager deve sapersi rapportare alle persone, cioè un project manager asociale e chiuso non sarà quasi mai un buon project manager. Ok? Non solo, deve sapere anche accettare i punti di vista differenti che saranno spesso discordanti col proprio punto di vista. Un project manager deve avere delle buone dote di leadership. Leadership è un termine complesso, al cui interno ci sono molti attributi però tra quelli più importanti per leadership si intende che deve essere capace di tenere le redini del carro dando allo stesso tempo però spazio ai suoi collaboratori. Deve saper motivare ecco il saper motivare è una dote essenziale di leadership e non solo leadership significa anche saper prendere decisioni soprattutto in situazioni complicate. Bisogna saper risolvere i problemi in ogni fase di un progetto ci saranno complicazioni ci saranno problemi che arriveranno improvvisamente. Il project manager deve sapere che ci saranno difficoltà e quindi deve avere la capacità e le competenze e gli strumenti per risolvere questi problemi in corso d'opera. Un piccolo aneddoto il direttore generale dell'azienda per cui lavoro una volta mi disse se va tutto liscio vuol dire che qualcosa è andato storto. Questa cosa inizialmente mi fece sorridere però mi fece poi riflettere e vi assicuro che è verissimo i problemi ci sono sempre quindi bisogna essere preparati bisogna essere consapevoli che ci saranno delle difficoltà quindi bisogna essere pronti ad affrontarli e a risolverli. Un buon project manager deve saper motivare deve avere delle capacità di valutazione e di gestione delle risorse cioè deve sapere chi può far meglio quella data attività ok quindi deve sapere indirizzare una risorsa verso la giusta attività non solo un project manager deve sapere anche negoziare attenzione ragazzi negoziare non è un termine negativo nel project management la negoziazione significa una cosa ben precisa la negoziazione è il trovare dei compromessi cioè significa far sposare bene le proprie necessità i propri interessi legati al proprio progetto con le necessità dei collaboratori con le aziende partner con tutti gli stakeholder nel caso di una tesi per esempio bisogna saper negoziare con il relatore con il correlatore con un collega cioè trovare dei punti di incontro tra i propri interessi e i loro interessi un project manager deve avere delle buone conoscenze tecniche ma non deve essere un esperto tecnico perché perché in realtà come abbiamo detto il project manager ha la responsabilità di gestire un progetto quindi gestire le risorse gestire anche le risorse tecniche come degli esperti però è importante che abbia almeno delle basi tecniche per poter capire per esempio un esperto tecnico di cosa sta parlando ovviamente deve avere anche delle conoscenze di general management passiamo ora al cuore di questa presentazione alle fasi del progetto ogni progetto è composto da 5 fasi avvio pianificazione esecuzione controllo e chiusura queste 5 fasi devono essere immaginate nel modo giusto non e dico non devono essere immaginate così come le vedete ora cioè non devono essere immaginate come delle fasi distinte e conseguenziali non sono sempre conseguenziali ok cioè che voglio dire voglio dire che per esempio la fase di pianificazione non deve essere pensata come conseguenziale alla fase di avvio cioè la pianificazione può anche cominciare durante la fase di avvio non per forza alla fine della fase di avvio o per esempio l'esecuzione la fase di esecuzione non deve necessariamente cominciare alla fine della fase di pianificazione come devono essere immaginate queste fasi non così ma piuttosto così le cinque fasi possono sovrapporsi tra di loro in questo grafico qui abbiamo il tempo in ascisse e il livello di attività in ordinate ogni attività è rappresentata da una curva come potete vedere quella blu di avvio la rossa pianificazione in grigio quella di esecuzione il controllo è in verde e la chiusura è in fucsia il picco massimo di ogni curva indica che ogni processo è nel suo pieno nel suo cuore ok ogni cuore come potete vedere ogni picco sono lontani tra loro non si sovrappongono più di tanto il resto della curva sì per esempio nel picco massimo dell'avvio qui in realtà siamo anche in una fase di pianificazione piuttosto avviata ma siamo anche all'inizio di una fase di esecuzione e di controllo quindi qual è il messaggio il messaggio è che un progetto deve essere immaginato come una sovrapposizione di processi quindi in parallelo non necessariamente in serie andiamo ora a vedere ognuna di queste fasi una per una cominciamo dall'avvio nell'avvio bisogna fare per prima cosa uno studio di contesto e di fattibilità cioè ci dobbiamo chiedere può essere realizzato dal punto di vista tecnico questo progetto questo progetto è conveniente economicamente bene nell'ambito accademico questa analisi di fattibilità e di direi di contesto deve essere volta a capire se l'oggetto di studio può essere interessante se mi può dare dei benefici a me studente neolaureato per lanciarmi già per esempio verso un lavoro è importante che in questa fase si capisca perché un determinato tema può essere interessante cioè per chi può essere interessante per qualche azienda cioè quello che produrrò potrà soddisfare un bisogno o una necessità per qualche azienda ragazzi questo fa la vera differenza cioè produrre un qualcosa che sia di beneficio per qualcuno per un'azienda che ha del denaro ok e che ovviamente potrà pagarvi per il vostro prodotto le stesse università lavorano su progetti che si spera potranno essere sonvenzionati dall'industria ok ricordiamo che la scienza nella nostra società si trova nella sfera del business teniamolo a mente la fase di avvio si concretizza con una riunione che in una sfera professionale chiamato kick-off meeting KOM in una sfera accademica si traduce con una riunione non così formale insomma con il relatore e possibilmente con il correlatore ok se si lavora in maniera congiunta con un collega ovviamente anche il collega è necessario che sia lì cosa dobbiamo produrre durante la fase di avvio dobbiamo produrre un documento che si chiama scheda progetto project charter che io vi consiglio di fare seguendo questa lista qui vi ho elencato i punti da analizzare in modo che alla fine avrete una scheda progetto ben definita nella scheda progetto cosa dobbiamo inserire dobbiamo inserire gli obiettivi del progetto e la loro giustificazione il fatto di scrivere delle giustificazioni per gli obiettivi ci farà riflettere molto su quanto la nostra tesi potrà essere effettivamente interessante e per chi bisogna poi definire i requisiti i risultati che bisogna produrre è bene decidere le milestone cioè praticamente tutte quelle riunioni intermedie da fare quindi decidere anche la frequenza di queste riunioni ed è bene deciderle inizialmente con il prof in un ambito professionale bisogna definire vincoli contrattuali e il budget ma ovviamente nel nostro caso non dobbiamo preoccuparcene in una fase di avvio professionale c'è anche l'assegnazione del capo del progetto in una fase di tesi noi siamo il project manager ok poi vabbè in un caso professionale ci sono anche definizioni preliminari dei principali stakeholder criteri di successo non dobbiamo preoccuparci però comunque vi ho inserito queste informazioni anche per chi per esempio volesse fare l'esame di project management punto 2 pianificazione per pianificazione si intende l'insieme dei processi per sviluppare il piano di progetto il project plan nel quale si definiscono tempi costi e qualità ok come si fa un project plan si fa rispondendo ad una serie di domande come per esempio cosa fare cioè quali sono le attività che devo fare quindi andremo a fare un documento che si chiama WBS che sta per work breakdown structure oppure definire chi fa cioè definire l'organizzazione le persone chi fa queste attività organizzeremo quindi faremo quindi un documento che si chiama organization breakdown structure la matrice è il prodotto di questi due documenti che risponderà alla domanda chi fa cosa poi le risorse cioè con che cosa fare cioè abbiamo bisogno di strumenti di software di quali software come fare cioè un reticolo logico una metodologia poi si definirà quando fare quindi definire i tempi entro i quali bisogna svolgere queste attività andremo a creare quindi un diagramma Gant ragazzi aprite le orecchie diagramma Gant è lo strumento principale per pianificare i tempi faremo un'esercitazione sul Gant è un elemento chiave di questa presentazione rappresenta la parte pratica che potrete rubare da questa presentazione e che spero voi possiate utilizzare per tutti i progetti a cui prenderete parte ok diagramma Gant lo andremo a fare e poi ovviamente bisogna anche stimare un budget cioè quanto costa fare questo progetto nel nostro caso di una tesi di laurea non ne avremo bisogno pianificazione temporale diagramma Gant riduciamo ora la sfera alla pianificazione per un lavoro di tesi così da rendere il tutto concreto e diretto senza troppe chiacchiere diagramma Gant per vostra informazione è uno strumento di supporto alla gestione dei progetti ed è così chiamato in ricordo dell'ingegnere statunitense Harry Gant che si occupava in realtà di scienze sociali e lo ideò nel 1917 è un diagramma semplicissimo qualcuno di voi probabilmente lo usa già io personalmente lo uso per qualsiasi progetto a cui prendo parte perché perché mi dà un'idea chiara di tutto lo svolgimento del progetto insomma con uno sguardo posso avere tutto sotto controllo dal punto di vista di attività e di tempo infatti nel diagramma Gant in ordinate ci sono le attività praticamente listate e in asciste c'è il tempo in questo esempio che vi riporto c'è la pianificazione di un progetto di sviluppo software ok in questo progetto ci sono quattro fasi principali come potete vedere analisi design development sviluppo e testing ok in grigio in verde arancione e blu alcune fasi sono in serie alcune in parallelo per esempio le sottofasi della fase di design cioè design database software design interface design eccetera sono tutte in serie non si sovrappongono perché perché evidentemente sono devono essere conseguenziali cioè che vuol dire vuol dire che per iniziare la fase di software design avrò bisogno del design database ecco perché sono in serie vedete questa freccetta questa freccetta significa che c'è una dipendenza tra due attività con il diagramma gant noi possiamo assegnare delle dipendenze tra attività tra poco faremo un esempio pratico insieme creeremo un gant in cui vi farò vedere ovviamente ci possono essere delle attività che corrono in parallelo per esempio se prendiamo in esame questa settimana l'ultima settimana di gennaio avremo in parallelo delle attività di design in verde delle attività di sviluppo in arancione e delle attività di testing questo che significa significa che queste attività possono essere indipendenti tra loro possono correre in maniera parallela e che significa inoltre significa che il project manager ha le risorse quindi le persone necessarie per lavorare nello stesso tempo a diverse attività quindi il diagramma Gantt è uno strumento essenziale facilissimo che io vi consiglio di usare sempre per ogni progetto ci sono vari strumenti oggi disponibili online che si possono scaricare ovviamente come per esempio il Tom's Planner io vi consiglio di usare il Tom's Planner perché è online ed è c'è una versione gratuita che potete usare sempre poi c'è Asana un software che io vi consiglio che è sempre gratuito ha una parte gratuita che vi consente di fare praticamente tutto per una tesi di laurea Asana io lo userei per essere in contatto con il relatore con il correlatore magari con il collega con cui sto condividendo la tesi vi permette di avere di essere sempre aggiornati tutti e tre sugli sviluppi della tesi la seconda esercitazione sarà fatta con Asana quindi vi mostrerò esattamente che cosa potete fare e come poi ovviamente ci sono altre applicazioni anche che possono essere usate su smartphone e su tablet vi ho riportato alcune di queste per esempio su smartphone c'è Gantman oppure Project Schedule Free o Gantchart nella fase di pianificazione come ho detto bisogna anche pianificare il budgeting chiaramente per una tesi di laurea non c'è bisogno ma volevo comunque riportarvi qui qualche informazione cioè bisogna definire la stima dei costi del progetto stima di tutto del personale cioè di quanto mi costano le persone che lavorano strumenti materiali servizi è importante comunque sapere che bisogna creare un documento che si chiami budget di progetto la terza fase è la fase di esecuzione il suo inizio è rappresentato dalla baseline cioè dalla pianificazione fatta all'inizio nel momento in cui la mia pianificazione è pronta posso cominciare ad eseguire il mio progetto l'esecuzione la baseline scusate rappresenta il riferimento per l'esecuzione e il controllo cioè la mia pianificazione iniziale chiamiamola baseline è un riferimento non è un dogma non è la mia bibbia la mia pianificazione può cambiare in corso d'opera ma può cambiare come? in funzione della baseline in modo che potrò avere un riferimento per il controllo cioè se io faccio dei cambiamenti se faccio delle modifiche della mia pianificazione avrò bisogno anche di quantificare queste modifiche la baseline è fondamentale cioè è la mia referenza che mi permette di quantificare eventuali variazioni ecco la nostra pianificazione potrà cambiare in corso d'opera e la baseline ci darà dei valori quantitativi di quanto ci siamo discostati dalla pianificazione iniziale ok per esempio se là il relatore della tesi non potrà correggere una parte della tesi in una data pianificata dovremo posticipare per cui ci sarà un ritardo che sarà calcolabile in base ai tempi della baseline ok l'esecuzione è il cuore del progetto infatti come potete vedere dall'immagine che ora vi ripropongo è il processo che dura di più vedete l'anticlinale dell'esecuzione è quella più lunga è il vero cuore perché perché in questa fase vengono prodotti i deliverable quindi proprio il prodotto vero e proprio i servizi quale risultato delle attività del progetto passiamo poi alla fase 4 velocemente il controllo il controllo diciamo che in una fase per un lavoro di tesi di laurea il controllo è un qualcosa che è responsabilità soprattutto del relatore e del correlatore però è importante sapere come fare un buon controllo come si fa un controllo si fa con il ciclo di Deming attuando questa metodologia che è chiamata PDCA o ciclo di Deming cioè una metodologia di plan do check act cioè di pianificazione fare controllo e attuare plan cioè si pianifica l'intervento o l'azione di miglioramento da compiere do si mette a punto quanto pianificato check si verifica quanto implementato e si valuta effettivamente la bontà dell'intervento correttivo ok con l'eventuale affinamento dell'intervento stesso se necessario act si mette in produzione l'intervento correttivo questi quattro elementi vanno eseguiti in con una certa ciclicità cioè pianifico la svolgo controllo mettendole in pratica con l'act avrò dei risultati che mi portano a un secondo step quindi ad una seconda fase ok avrò quindi un nuovo piano basato sui risultati del ciclo precedente questo nuovo piano lo rimetterò in pratica svolgerò di nuovo il controllo e così via quindi ci sarà effettivamente un ciclo iterativo i processi di chiusura consentono di concludere ordinatamente le attività del progetto chiudere in maniera disordinata è un errore enorme perché perché un progetto quando è chiuso ordinatamente potrà essere utilizzato in un prossimo futuro come referenza se io faccio un lavoro di tesi triennale e lo chiudo in maniera ordinata precisa insomma con un database ordinato nel momento in cui lo andrò a prendere dopo due anni quest'ordine me lo ritroverò e potrò andare a consultare tutte le fasi del mio progetto precedente in maniera efficiente e rapida un progetto può definirsi effettivamente chiuso quando quando tutti i prodotti servizi e risultati sono stati realizzati e formalmente accettati dal cliente in una sfera professionale la chiusura viene fatta durante un meeting ufficiale formale che è chiamato close out meeting presieduta dal responsabile del progetto e alla quale parteciperanno ovviamente tutte le strutture tutti gli stakeholder in termini di tesi ovviamente il progetto si definisce chiuso quando avremo tutti i risultati quando avremo consegnato la tesi in segreteria e quando avremo ovviamente discusso la tesi e quando avremo archiviato bene per bene tutti i dati e risultati lo metto in verde perché è molto importante ragazzi vi consiglio di archiviare i vostri dati la vostra tesi il vostro progetto con particolare attenzione soprattutto alle lesson learned cioè alle lezioni apprese oltre a tutto il database ben ordinato vi consiglio di archiviare anche un documento che voi potrete chiamare lesson learned in cui un documento word semplice in cui descrivete tutte le lezioni apprese soprattutto quali sono state le difficoltà maggiori e come voi avete agito per risolvere queste difficoltà passiamo all'ultima parte prima della fase di esercitazione last but not least cioè ultimo in senso cronologico ma non certo di importanza la comunicazione ragazzi la comunicazione fa la vera differenza non a caso i migliori project manager del mondo affermano che la comunicazione è il primo elemento da tenere in considerazione durante un progetto nel nostro caso in un progetto di tesi di laurea è necessario stabilire all'inizio con il relatore con il correlatore e con eventuali colleghi le modalità principali di comunicazione se per esempio comunicare tramite email e quando magari telefonicamente oppure con strumenti nuovi come può essere quello di Asana che vi consiglio moltissimo soprattutto per tenere aggiornati costantemente relatore e correlatore oppure perché no utilizzare Skype che spesso può essere molto utile ed efficace soprattutto quando si è lontani e bisogna definire la frequenza cioè chiedere al relatore al correlatore ogni quanto tempo ci aggiorniamo cioè definire un piano di comunicazione ok fatelo durante la vostra riunione di avvio definitelo bene due messaggi non abbiate timore di proporre nuove forme di comunicazione con nuove tecnologie e software perché solitamente questi software come Asana sono estremamente semplici sono online sono gratuiti sempre a portata di mano perché c'è anche l'app sul telefono e ragazzi più in generale ancora non abbiate timore di fare domande ogni domanda non posta è una risposta persa è un'informazione persa non abbiate timore a fare domande benissimo passiamo ora alla dimostrazione pratica ragazzi allora faremo una prima dimostrazione con Tom's Planner potete andare poi dopo sul sito Tom's Planner e farvi un Gant un diagramma Gant per i fatti vostri e poi faremo una seconda dimostrazione con Asana andiamo su Tom's Planner punto com benissimo ci siamo su facciamo il nostro sign up quindi creiamo un nostro account io già l'ho fatto e voilà e siamo dentro siamo in un diagramma Gant possiamo creare il nostro diagramma Gant in Asci se abbiamo il tempo qui abbiamo la lista di attività che possiamo cominciare a fare quindi per esempio la prima fase sarà una fase di avvio ok qui per esempio potremmo scrivere riunione di avvio e per esempio immaginiamo di farlo il 5 di novembre quindi qui andrò con il tasto destro farò add time block ok metto in arancione e avremo possiamo inserire questa attività il 5 poi per esempio avremo questa la possiamo mettere in blu avremo una prima fase di studio bibliografico lo studio bibliografico potrà cominciare per esempio il giorno dopo al time block lo mettiamo in blu e pianifichiamo di fare uno studio almeno per dire due settimane ok qui potremo aggiungere una serie di sotto attività relative allo studio bibliografico per esempio studio di tesi precedenti precedenti che il professore probabilmente ci fornirà oppure bibliografia internazionale e qui aggiungeremo dei sottolivelli per ognuna di queste sotto attività ok una cosa del genere poi per esempio la terza che possiamo mettere in un altro colore terza grossa attività sarà la raccolta dei dati questa potrà per esempio cominciare anche durante lo studio bibliografico ricordate in serie e non in parallelo non necessariamente in parallelo la raccolta dati per esempio potrà cominciare perché no il 12 novembre faccio degli esempi ovviamente e magari durerà tutto il mese di novembre magari fino a dicembre va ok la raccolta dati può essere formata da per esempio rilevamento geologico le date potranno essere definite con il professore magari non potrà farle nell'immediato quindi una prima fase magari la facciamo noi e potremo decidere appunto delle date insieme a lui ok la raccolta dati può anche consistere per esempio nell'analisi delle rocce va il microscopio elettronico per esempio questo possiamo cambiare colore e così via poi dopo ci sarà una fase di analisi dei dati l'analisi dei dati potrà cominciare magari alla fine della raccolta dati o magari giusto prima della fine poi dipende appunto dalla pianificazione che si decide di fare l'analisi dei dati per esempio durerà un bel po' ok questa analisi dei dati avrà un'attività 1 attività 2 eccetera eccetera queste attività posso pianificarle come mi pare per esempio ok alla fine potremo fare interpretazione e risultati questo lo possiamo mettere in grigio per esempio l'interpretazione ci potrà essere a partire per esempio dal 28 gennaio per tre settimane ok qui avete quindi una pianificazione delle attività principali qui in dove c'è dei potete mettere anche una visualizzazione per settimane o per giorni in modo che potete insomma cambiare la scala del tempo e avere tutto sotto controllo qui potete definire la vostra deadline per esempio definiamo immaginiamo che pianifichiamo di laurearci per la seduta di marzo quindi la nostra deadline è qui e abbiamo tutto il nostro piano sotto controllo abbiamo parlato di dipendenza è molto semplice qui creare una dipendenza tra le varie attività basta per esempio cliccare sul tasto destro fare add dependency abbiamo questa freccia andiamo a cliccare poi sulla seconda attività definiremo quindi questa dipendenza per esempio questa dipende da questa qua creeremo quindi tutto lo schema di dipendenze che ovviamente potrà essere cambiato in corso d'opera questo è un gant ed è semplicissimo da utilizzare passiamo poi ad asana asana.com create in asana il vostro account io già ho creato il mio asana è eccellente per creare un'interazione continua nel tempo e che è possibile sempre monitorare in ogni momento con il vostro professore con il vostro correlatore per esempio creiamo un nuovo progetto progetto di tesi description possiamo scrivere descrizione studio geologico voilà siamo dentro qui potremo cominciare a scrivere ad aggiungere le task cioè le attività per esempio riunione di avvio la prima fase che è la fase di bibliografia eccetera eccetera come vedete quando clicco sulla mia attività sulla destra avrò una chat dove ci sarà il prof relatore correlatore tutte le persone che voglio invitare al mio progetto avrò modo di descrivere l'attività di mettere delle date quindi una data di inizio una data di fine per esempio avevamo deciso il 5 novembre fare questa riunione di avvio qui possiamo descrivere gli obiettivi quindi listare i vari obiettivi da definire in questa in questa riunione e poi qui abbiamo la possibilità anche di aggiungere per esempio dei documenti ok dei documenti che voglio far recapitare al prof ok una cosa importantissima per esempio che io userei è la correzione tesi nella correzione tesi qui io potrò mettere effettivamente potrò caricare la mia tesi e potrò dire al professore la ringrazio per la correzione eccole in allegato in allegato la prima versione voilà e lui vi ricaricherà qui la tesi corretta ok potete invitare persone come semplicemente andando qui e fare add member qui scrivete la mail del prof ok fate send invite lui riceverà un'email con l'invito che accetterà nel momento in cui accetterà avrete la casella con le iniziali del vostro prof questo è un tool estremamente utile che è gratuito qui ci sono c'è la timeline calendario quando voi mettete le date avrete nel calendario le varie attività per esempio noi abbiamo aggiunto l'attività di riunione e la ritroverò io qui conversation quando ci saranno le conversazioni le troveremo qua e il progress qua potrete anche monitorare il progresso l'evoluzione del vostro progetto e qui c'è anche file insomma qui ritroverete tutti i file che avete inviato o che vi saranno stati inviati anche in questo caso ci sono tante altre opzioni che ovviamente vi consiglio poi di andare a vedere per conto vostro e con questo il capitolo di project management è terminato io vi ringrazio tutti per la vostra attenzione e per la vostra partecipazione ciao